Oltre 181 milioni di investimenti divisi in 152,600 mila per Trenitalia e poco meno di 29 milioni per la Regione nel nuovo contratto di servizio della durata di 10 anni firmato questa mattina in Regione a Pescara dall'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi e la Presidente Marsiglio. Un accordo di lunga durata nel segno della stabilità ma anche dell'innovazione ed efficientamento del servizio con l'acquisto di 5 nuovi treni pop di ultima generazione per circa 34 milioni, 10 treni minuetto diesel per le tratte non elettrificate, l'implementazione dell'RMTS, un supporto tecnologico essenziale per la sicurezza sulla tratta Vezzano-Roccasecca e sul versante tariffario aumenti contenuti e fisiologici in un panorama nazionale che vede l'Abruzzo tra le regioni con le tariffe più basse. Il discorso tariffario è un discorso che per noi, così come per la Regione, è molto importante. Quando parliamo di sostenibilità in un trasporto regionale parliamo anche di sostenibilità economica. Quindi considerate che in 10-15 anni, che sono i 10 più 5 anni del contratto di servizio, si è veramente tenuto conto del discorso tariffario andando a creare degli aumenti che sono addirittura sotto quelle che sono le previsioni dell'inflazione. Quindi insomma è una situazione veramente molto attenta a evitare aumenti importanti in un trasporto regionale. Le tariffe saranno riallineate a prescindere perché c'è stato 10 anni con alcune di inflazioni al 10% e oltre. Le tariffe dell'Abruzzo erano e sono tuttora praticamente le più basse d'Italia, quindi che nell'ambito del contratto ci sia un riallineamento alle tariffe medie questo ci sta. Però è importante anche sottolineare che noi abbiamo ottenuto un contratto vantaggioso per la regione, per le casse pubbliche, ottenendo di fatto uno sconto di 35 milioni rispetto alla proposta iniziale che prevedeva incrementi medi e annui del 7,5%. Li abbiamo ridimensionati a poco più del 5% grazie anche al lavoro dei nostri uffici e dei nostri tecnici che hanno saputo dimostrare e negoziare che l'algoritmo giusto era quello che proponeva la regione Abruzzo. Significa 3 milioni e mezzo l'anno risparmiati sul bilancio regionale e quindi anche su soldi pubblici dei contribuenti. Intanto sulla Pescara Roma si va avanti con le procedure che proseguono forti anche dei ricorsi dei vari comuni rigettati dal Tar. Noi siamo al fianco della regione in quello che è una cosa strategica e fondamentale, per velocizzare le linee, soprattutto come ha citato lei, unire Roma e Pescara in tempi minori. I nostri clienti lo chiedono, per me è veramente una necessità fortissima, ma anche quando parliamo dell'Adriatica, andare a potenziare la linea Adriatica che è una dorsale fondamentale per l'Abruzzo e anche per Trenitalia strategico. Grazie.